CODDIO Ok, calma, calma A destra, nemmeno anche a destra No, come ho fatto? Eh, è bloccato ragazzi, sono frizzato Sì, tutti Il tempo va intanto a quello eh Ma mi sentite ragazzi? Ma che cazzo Ma la bomba non esplode più Vai 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 Dio cane, cosa avevi fatto? Ragazzi, cioè io non ho parole